Emanuela Loretone, alla fine il presidente Diego di Buonaventura vi ha incontrati e avrebbe promesso che non ci sarà nessuna decurtazione di ore, anzi un aumento nel capitolo di bilancio. Come stanno le cose? Sì, alla fine siamo riusciti ad incontrare il presidente della provincia. La decurtazione delle ore in questo momento c'è, ma non è una cosa di oggi. È una cosa che va avanti da almeno due anni. Noi in realtà siamo dietro a questa situazione da almeno due anni. Il presidente della provincia ci ha detto che ha intenzione di mettere a bilancio una somma maggiore per i servizi di pulizia della provincia, anche perché effettivamente non è sufficiente il tempo che la provincia investe per la pulizia dei locali. Staremo a vedere. Noi comunque il 10 giugno abbiamo un incontro e quindi lì ci dovranno confermare se effettivamente c'è questo tipo di investimento. Noi ovviamente prendiamo positivamente l'intenzione del presidente della provincia e attendiamo di vedere il bilancio. Perché tutto questo si dovrebbe sviluppare nella prossima gara, gara d'appalto. Sì, il bilancio dovrebbe prevedere una somma destinata a servizio di pulizia dei locali della provincia più alta di quella che è stanziata adesso e quindi questa potrebbe essere la base, il presupposto per fare una gara che sia utile a fare il minimo indispensabile del lavoro che le signore dipendenti della cooperativa Picasso stanno facendo in questo momento in cui lo stanziamento non è sufficiente a fare tutte le pulizie che bisognerebbe fare in quei locali. Vogliamo ricordare anche lo stipendio, insomma qui si viaggia veramente sulle 200-300 euro. Sì, noi abbiamo stipendi che vanno dalle 250, 280, 290 alle 300-400 euro. Neanche la sopravvivenza? No, infatti neanche la sopravvivenza appunto. E' chiaro che poi quando si parla purtroppo di tagli alla pubblica amministrazione, i tagli alla pubblica amministrazione sono sempre destinati a questo tipo di servizi e vanno a colpire sempre le lavoratrici e i lavoratori più deboli.